Viene spontanea la domanda, ma chi è questo fariseo e chi è il pubblicano? Perché sono due termini che ritornano continuamente quando ascoltiamo la pagina del Vangelo. Bene, dare una precisazione, il fariseo è colui che non ha bisogno di nessuno, né degli uomini e tantomeno di Dio. E ho già dato la definizione. È l'uomo autosufficiente, presuntuoso, ci sono io e basto io. Perché non ha bisogno di Dio? Perché lui studia la legge, si sforza di osservarla a puntino. E quindi non ha bisogno di Dio. La stessa crocifissione di Gesù è stata inutile. Se noi notiamo il parlare del fariseo, vediamo che usa poche parole, anzi usa una parola sola. Io, 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 è sempre io. E gli altri? Boh, e chi sono gli altri? Ecco il fariseo, un dottore della legge, un conosciutore della legge, ha studiato la legge ed è padrone di se stesso. Ora, domandiamoci chi è il pubblicano. Il pubblicano, come dire, è un uomo sbagliato. Proprio un uomo sbagliato che non ha né ricchezze e né pregi e né volontà, non tiene proprio niente. Vive alla giornata. È un povero. È un povero di tutto. Ed è povero principalmente di volontà di acquistare meriti, di cominciare un cammino importante di salvezza. È un povero povero. Quindi l'unica cosa che può fare il pubblicano è fare una preghiera al Signore Dio. Signore Dio, ricordati di me nella tua infinita misericordia. Io penso che Dio accetta di più questa semplice espressione di un povero uomo, peccatore, anziché quella posizione dell'io, io, io, del fariseo. Ci domandiamo ancora. Perché il fariseo, nonostante tante preghiere e penitenze, non è accetto a Dio? In che cosa sbaglia? Non solo le disprezza gli altri, cioè non ha relazione con gli altri. Avrà anche relazione e relazione commerciale, economica. Lì ci riesce bene. Ma relazione a livello umano, spirituale, non si preoccupa. Non ha nulla di insieme agli altri. Disprezza gli altri uomini che sono ignoranti, rapaci, ladri, ingiusti, adulteri. I guai del mondo stanno tutti dalla parte loro. E nella sua preghiera domina questa parola che ho già detto. Io, io, io. Manca la fiducia in Dio perché è autosufficiente. Il pubblicano è cosciente della sua situazione e non ha nessuna speranza. Vorrebbe rinunziare e ricominciare una vita nuova, ma non crede neppure in se stesso. E ho disperato, è la sua posizione, ho disperato, ho affidarsi alla misericordia di Dio. E almeno in questo si mette sulla strada buona, si incanale sulla strada della misericordia. Ci domandiamo adesso, e Padre Pio, quale ha avuto, quale rapporto ha avuto con Dio? Beh, qui la risposta è duplice e noi non abbiamo tempo per spiegare tutto, dare una risposta esauriente. Certamente, Padre Pio ha avuto la coscienza di essere peccatore. Ed è stata questa la grande crisi spirituale, la notte oscura, quando esaminando se stesso e vedendo che dentro la sua anima non riusciva a trovare nessun peccato, allora dice Dio mi ha nascosto i peccati, Dio mi ha abbandonato. e quindi organizza addirittura le sue figlie spirituali per pregare per la sua salvezza e la sua morte perché non leva così il rischio di trovarsi contro Dio su questa terra.